Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video Vi vedo che siete tutti contenti che sono tornati anche mollettino e mollettina, infatti mi mancavano troppo Oggi raga ho questo pacco enorme da unboxare con voi e sapete cosa c'è qua dentro? I mini verse, raga ve lo giuro, mi avete chiesto in tantissimi di unboxare i mini verse che sono questi nuovi giochi mini appunto E adesso che mi sono arrivati io non vedo l'ora di aprirli con voi, adesso vi faccio vedere tutto ciò che c'è dentro la scatola Allora, la cosa più bella di tutte è questa Una grandissima cucina di mini verse che in realtà è una mini mega cucina perché è enorme raga, cioè guardate quanto è grande C'è scritto che ci sono anche tutti i cibi e le ricette per cucinarli e la sfida è proprio quella di cucinarli Quindi ovviamente in questo video proveremo a farli insieme Ma non è finita, qui nello scatolone c'erano anche altre tre cose C'erano anche queste tre palline a sorpresa credo perché qua dentro ci dovrebbero essere i mini verse Non lo so, però intanto io direi di aprire la mega cucina perché raga non vedo l'ora Comunque cioè assurdo, io contenta per questi giochi ma ve lo giuro mi sembra di tornare bambina Perché la mia bambina avrebbe amato questa roba, ok? E già vi dico che questa non è una pubblicità, cioè a me piace perché mi piace Andiamo ad aprire con le nostre forbici che poi anche nel retro c'è scritto un sacco di cose Ecco ci sono, ci sto riuscendo Ma è enorme, aiuto ci sono un sacco di libretti delle istruzioni, adesso voglio andare a vedere tutto Allora questa è la cucina, credo che io la devo togliere da qui, non so come perché è tutta imballata Adesso un attimo che la tolgo Ok raga allora questa è tutta la cucina Ok ho anche queste cose che sono rimaste qua e adesso apro anche queste Allora qua dentro ci dovrebbero essere i guanti da cucina perché ovviamente sono indispensabili per cucinare Oddio raga ma sono gommosi No vabbè guardate che spettacolo I guanti Io adoro questo odore di plastica, no comunque bellissimi questi Questi raga erano le altre cose, qui dovrebbero esserci tutti gli ingredienti per fare un drink Infatti questo è il libretto Adesso voglio provarlo a fare, vedete che c'è la cannuccia Le fragoline Poi queste sono delle salse che raga io pensavo fossero finte Poi le ho aperte Letteralmente raga sono delle salse vere quindi aiuto Mentre qui ci sono delle ciambelline C'è anche la scatola con scritto just baked cioè appena cotte E poi c'è questo diciamo vassoio con la tovaglietta per portarle Bellissimi, tutto quanto stupendo E poi ovviamente qua la nostra cucina Che qui non so perché ma non trovo più una maniglia Forse mi è caduta o forse non c'era vabbè Comunque andiamo a togliere sta roba qui Che cos'è? Curiosa io Vediamo cosa c'è dentro Oddio raga Ma cos'è? No vabbè Adesso vi faccio vedere C'erano delle cose da cucina Una ciotola rosa Oddio ma è un biberon Questo è il sopra di un biberon E questi sono dei cereali carini E poi ci sono delle presine per la griglia Però dov'è il sotto del biberon? Poi la roba carina è che tipo ogni scompartimento Vedete che si toglie e si può anche rimettere Tutti così anche questi E qui sotto invece c'è tipo il forno Se lo apriamo Oddio Cioè guardate che spettacolo Bellissimo Ho aperto tutto e sono vuoti Questi sono dei cassetti Questo dovrebbe essere tipo il freezer Poi qui c'è il lavandino E il forno che lo richiudiamo Bene adesso è arrivato il momento di fare qualche ricetta Allora io direi di iniziare con gli ingredienti che già abbiamo E poi poi andare ad aprire anche queste qui Così magari aggiungiamo qualcosa Allora la cosa che faccio per prima è il drink Questo qui Infatti c'è anche il libretto delle istruzioni È molto semplice Basta unire le fragole con il ghiaccio E poi aggiungere questa miscela rosa E poi mischiare il tutto Andiamo Questo è il nostro contenitore Adesso andiamo ad aprire questo mini ghiaccio No vabbè ma che spettacolo Guardate che bello Lo andiamo a mettere dentro il bicchiere Va bene così? Sì va bene Ok facciamo così di ghiaccio basta Ed ora uniamo al ghiaccio queste fragoline Eccole qui le fragole Andiamole a mettere Queste le metto tutte Eccolo qui E adesso dobbiamo andare ad aggiungere questo qui Che è il latte di Coco Berry Quindi cocco e fragola Buono questo drink Oh mio dio raga Ma cos'è? Ovviamente non si beve questa roba Guardate che bello Ora vado a mescolare il tutto Con questa mini cannuccia Il nostro drink Oh mamma Si sta diciamo incollando tutto Non è che colla veramente Cioè colla per renderlo poi immobile E tadan Ecco qua il nostro drink Lo lasciamo con la cannuccia Così magari è più facile berlo E poi abbiamo anche il sotto drink Che va messo sotto qua Allora primo piatto Diciamo così Cucinato Lo andiamo ad appoggiare nella nostra cucina Eccolo qui E adesso andiamo a fare le ciambelline Ovviamente vado a mettere il ghiaccio in congelatore Così non diventa acqua Per le ciambelline c'è scritto di versare Questo qui che è tipo sciroppo Sopra le ciambelle E poi andare ad aggiungere Penso siano i cereali Questi qua E c'è scritto che devono stare 5-10 minuti in forno Ok Quindi andiamo ad appoggiare sulla teglia le ciambelline E prendiamo il nostro sciroppo Ora lo andiamo a mettere sopra le ciambelle Un pochino Oddio Eccole qua Guardate che belle Sembrano vere E adesso andiamo Oh Cadute le ciambelle mi sono No vabbè No vabbè Io sempre i danni faccio Comunque andiamo ad aprire questi Che sono tipo dei cereali Ma guardate che ciambelle Guardate che mini Guardate che mini raga Adesso è arrivato il momento di andare a mettere i nostri cereali sopra le ciambelline Con molta delicatezza e caute Oddio Ne ho messi troppi Li vado un po' a spargere meglio Ah giusto Avevo le pinzette No vabbè non ci ho pensato Adesso con le pinzette andiamo un attimo a togliere questi cereali da sopra Perché sono poco aesthetic Ecco le nostre ciambelline finite Qua c'è scritto di metterle 5-10 minuti Non so forse al sole Vabbè non importa Io le provo a mettere in forno Vediamo se qualcosa succede Nel frattempo raga il drink è diventato tipo trasparente Quindi sta funzionando Credo che si stiano incollando gli oggetti Nel frattempo riposto tutto quanto ordinato in cucina E adesso mi è presa proprio una grandissima curiosità di aprire queste palline Perché voglio vedere che altro cibo c'è qua dentro Però lo vado a fare un attimo negli shorts E comunque troverete i video sul mio profilo Quindi andate a vedere dopo Ma vi faccio subito vedere quello che ho fatto Andiamo Ok raga sono tornata Ho unboxato la prima scatola Adesso vi faccio il resoconto di tutto quello che ho trovato dentro Questo è tutto quello che ho trovato Ovvero un tavolino che ho montato Poi c'era questo porta torta da mettere sopra il tavolino Perché la ricetta di questa scatola era appunto questa torta Che deve venire torta tiramisù No vabbè E quindi noi dobbiamo andare a rifare la torta tiramisù E c'era dentro tutte queste cose E ho scoperto anche che questi tappeti in realtà non sono per i biberon Sono da mettere sopra questi qui per farne uscire poco poco Cioè capito No vabbè raga ho trovato tutto il ricettario di tutti i dolci che si possono fare La nostra è questa non è quella tiramisù È la choco bundt cake Quindi la torta al cioccolato Oddio c'è anche il ramen No vabbè Adesso io non vedo l'ora di trovare tutti questi cibi Che carini guardate la torta di compleanno No vabbè Poi la cosa bella è che dietro ci sono tutte le ricette su come farlo Vabbè iniziamo da questa Andiamo a vedere la ricetta Vabbè basta mettere prima questa E poi queste cose qua Andiamo Ok ho messo il tappino da biberon Adesso lo andiamo a mettere un po' sulla torta Oddio che bel colore Sembra caramello No vabbè Non troppo dai così va bene Non troppo Sempre io che lo continuo a mettere Vabbè dettagli E adesso andiamo ad aprire questo qui No ma che carini questi pasticcini Ovviamente servono le pinzette per metterli Quindi Li andiamo a prendere uno ad uno Che carini bellissimi E li vado a posizionare Sopra la nostra torta Ah no vabbè adoro Tipo in questo modo Io mi sento Cioè una pasticcera tipo Bake Off Italia Non lo so Cioè ragazzi guardate Ho fatto la mia torta Guardate che carina Cioè vi prego È bellissima No sto diventando proprio una chef Con questo gioco Cioè guardate quante cose ho fatto Non vorrei dire nulla eh Eccomi tornata Ho unboxato anche la seconda pallina Quella più piccola E adesso vi faccio vedere Quello che ho trovato Ho trovato tutti gli ingredienti Per fare queste Che sono Delle magnifiche ciambelline Però questa è la vaniglia Abbiamo fatto prima quella al cioccolato E poi ho trovato questi Che sono tipo i dolcettini Quindi ovviamente adesso Le vado a fare Ah e dentro c'era anche questo Che credo che sia Tutto quanto il ricettario Dei cocktail No raga Ma io voglio trovare Il bubble tea Oddio ci sono pure i cereali No vabbè Io necessito di queste cose I cereali buonissimi I cinnamon rolls No adoro Voglio tutto ora Spero che in questa ultima pallina Che vado ad aprire dopo Ci sia qualcosa di sto genere Perché li adoro Andiamo a mettere Lo sciroppino rosa Sopra le ciambelle Cioè guardate che bello Questo colore No vabbè Adoro Ed ora ci vado a mettere Gli zuccherini sopra Ovviamente devo fare Con molta cautela Ecco già lo sapevo Che mi cadevano tutti Ed ecco qua Fatte anche le altre Ciambelline Super super belle Le mettiamo qua Ciao amici Eccomi scusate Mi è passato un giorno Ma ieri era pronto il pranzo Sono andata a mangiare E poi ero impegnata Quindi iniziamo ad aprire Quest'ultima pallina Facciamo questo unboxing E vediamo Quale cibo Troveremo Perché raga ve lo giuro Quelli che ho fatto ieri Si sono seccati tutti Facciamo un unboxing ASMR Eccoci ci siamo Andiamo Ok ci sono tantissime bustine Adesso le apriamo tutte Oddio caduto mi è Iniziamo da quella più grande Che è questa gialla Vediamo Si raga E' un bicchiere Questo sapete cosa vuol dire Che sicuramente potrebbe essere Un bubble tea Oppure un drink Quindi già da qui adoro Poi ci sono le pinzette Queste ci sono sempre Perché serviranno per il ghiaccio Continuiamo l'unboxing Ok ok Abbiamo un drink Questo è tipo al mirtillo Sembra Non lo so Vediamo No vabbè raga Guardate dei mini mirtilli No ma che carini No adoro L'ultimo pacchettino Da unboxare E sono ovviamente Dei ghiacci Perché questo sarà Un drink No vabbè Adesso dato che è un drink Voglio andare a vedere La ricetta Questo è quello che ho trovato I ghiacci I mirtillini Guardate quanto sono carini Sono le more Sembrano more E adesso andiamo a vedere Quale drink è Allora Speravo in un bubble tea Ma è questo qui Ovvero Berry refresher Berry refresher Però è bellissimo Perché è rosa Quindi andiamo subito a fare Bene Allora Come prima cosa Andiamo a mettere Tutto quanto Il liquidino rosa All'interno del nostro bicchiere Adesso invece Vado ad inserire I lamponi Eccoli qui Guardate quanto sono carini E li vado a mettere Dentro il bicchierino In maniera un po' casuale Così Beh intanto vado a mettere Anche il ghiaccio Che è in questa bustina Adesso vado a mescolare Il tutto con la cannuccia E facciamo Diciamo Il drink mescolato Che bello Tutto questo rosa Adoro Adoro troppo E tadan Ecco il drink fatto Ovviamente adesso Devo aspettare Che si asciughi Ovviamente insieme Al suo sottobicchiere Lo mettiamo qui Troppo 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 Cute E nel frattempo Anche queste cose Si sono asciugate Tutte Quindi adesso Non si stacca più nulla E qui ho messo a posto Un po' tutta la dispensa Vedete E anche in freezer Ho lasciato Tutti i ghiaccioli Questa potrebbe essere La cucina di mollettino E di mollettina Infatti Perché le dimensioni Sono perfette Va bene mollettino Però basta che cucini tu La prossima volta Bene ragazzi Scrivetemi nei commenti Se questo unboxing Vi è piaciuto E se volete Altri unboxing Consigliatemi Qualche altro giocattolo Da provare Lasciatemi un mi piace Se il video vi è piaciuto Se il format Vi piace E ne dovrei fare altri Noi ci vediamo Nel prossimo video Buone vacanze di Natale E buone feste A tutti quanti Perché tra poco È Natale Ciao Ciao